Salve a tutti ragazzi, io sono Diego Dabbe21 e in questo nuovo video interpreto il mitico draghetto Mushu di Mulan della Walt Disney, nel suo sequel del 2004, perché sì, se vi lo state chiedendo, sì, c'è stato un sequel anche di Mulan. Allora, in questa scena, il mitico draghetto, protettore dell'eroica e dolce fan Mulan, e Prom si agginge finalmente a unire in matrimonio l'eroina della Cina con il suo promesso sposo Shang, che hanno tanto penato per questo lieto fine fin dall'inizio della seconda pellicola. Di questo video, a scanso di quivoci, possieda soltanto la voce. Tutto chiaro? Molto bene. Se il video vi piace, iscrivetevi e non perdetevi nelle ultime attività di doppiaggio. Un ciri vi dicevo a tutti i fan della viaggio, lo dico Dabbe21, perché il mio motto è, come ben sapete, Dab is the world. Buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia, anche perché abbiamo raggiunto un traguardo importante con questo video, questo è già il venticinquesimo, il prossimo traguardo sarà il cinquantesimo. Eh già, spero che il video vi piaccia, perché si va a incominciare! Vai là! Cos'è tutto questo forracasso? Vedi un po' se sono vivo, perciò è meglio che tu abbassi quel sederone da mangiare avioni e vi spieghi perché ancora non si vede ombre di matrimonio, eh? Ma 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 altissimo, il generale Lishang non è un figlio del Kiko! Silenzio! Io sono il drago d'oro dell'unione e io che cido chi unire! Il mio occhio onnivergente ha scrutato il vero cuore della Cina e io non ho mai visto due persone più giuste l'una per l'altra della splendida coppia che ho davanti, Mulan e Shang. Un applauso per loro, prego! Ora vi ordino di procedere immediatamente! Diamoci da fare, Mulan amitu Shang, certo che lo ami, Shang amitu Mulan, sì moltissimo! Andiamo avanti, per i poteri che mi sono stati conferiti da me, io vi dichiaro marito e moglie! Hai qualcosa da aggiungere, ciccio bombasin? E inoltre dichiaro qui che le principesse del regno di mezzo, dovunque si trovino, sono svincolate dal loro giorgamento e possono sposare chiunque vogliano e chiunque possa farle felici, che è importante! E questo era il mio doppiaggio del mitico The Raggett Mushu nel secondo Mulan, in Mulan 2 del 2004, della Walt Disney Animation. Spero che il video vi sia piaciuto, un celibirciato a tutti i fan dello piacere da Dicotabber21, Dab is the world! Buona visione a tutti, ci vediamo nel prossimo video! 25 video ragazzi, che traguardo! Il prossimo traguardo sarà raggiungere i 50 video! Dai che ce la facciamo! Ci vediamo presto con tanti nuovi video! A presto! A presto! A presto!